Musica Allora, benvenuti al mio canale su YouTube questo è un canale su cui io ho deciso di pubblicare una serie di video la maggior parte dei quali sono attinenti alle mie attività di esplorazione nel mondo di Second Life OpenSim come noterete la maggior parte di questi video sono dei tutorial che cercano di spiegare come usare lo scripting di Second Life e anche tutorial che cercano di spiegare come modellare con lo strumento Open Source Blender io tengo dei corsi virtuali su Second Life OpenSim e nelle grid dedicate per insegnanti mentre per lo scripting la mia cooperazione nella vita reale è congruente nel senso che io sono un programmatore quindi cerco comunque di divulgare le problematiche di scripting anche a chi non sa nulla o pensa di non sapere invece per Blender sono in una situazione un po' particolare mi incuriosisce veramente tanto vedo che ha delle potenzialità incredibili io purtroppo non riesco molto a sfruttarle perché per poter usare Blender bisogna essere anche molto artisti e anche avere moltissima pazienza e moltissima costanza molte di queste doti non ce le ho e quindi mi sento un po' frustrato l'aver osservato che però i miei esperimenti e i miei tentativi di cogliere novità e potenza di questi strumenti sono stati utili a molte persone che magari sono riuscito ad andare avanti molto più in là di quello che io gli ho insegnato diciamo che gli ho insegnato piccoli trucchi una serie di cose che ho imparato sempre dal mondo internet o comunque da altre persone esperte o da corsi dedicati nel piccolo, nel mio piccolo quindi sto cercando di formare delle guide e dare un po' di incoraggiamento a tutti coloro che si trovano di fronte a questi argomenti sia scripting che Blender e magari pensano che i problemi siano insormontabili invece la tecnologia una delle caratteristiche fondamentali di questa tecnologia è che, quella di mondi virtuali intendo è che ha reso possibile anche a persone che normalmente non fanno queste cose quindi persone che non sanno cos'è la programmazione non sanno cos'è la costruzione 3D nella maniera sofisticata utilizzata dai super professionisti però questi amatori, questi dilettanti possono imparare a usare prodotti come Blender che è gratis, potentissimo, di libero accesso e gli consente di produrre dei risultati a volte di estremo valore quindi, nella speranza che tutto questo possa servire a tutti vi ringrazio ancora per seguire i miei corsi e arrivederci durante queste riprese grazie grazie